ben ritrovati e buona domenica da fabio pizzul eccoci a un nuovo appuntamento con in dialogo coi lombardi lo spazio in cui do risposta alle vostre domande che mi continuano ad arrivare spero lo facciano ancora così che questa rubrica possa continuare sempre appunto che sia gradita da parte vostra partiamo subito dal primo quesito di oggi ciao fabio grazie vorrei chiederti così un parere un giudizio su quelle frasi pazzesche del ministro lollo brigida sulla sostituzione etnica cosa ne pensi da tanti definite come da censurare perché gravi e il ministro continua a sminuirle e ti chiedo se pensi anche rispetto all'esternazione di qualche settimana fa del presidente del senato la russa se forse non ci sia quasi un disegno di comunicazione comunicativo ecco dietro dietro questo tipo di di frasi e di prese di posizione grazie mille grazie alberto per questa domanda e tra l'altro è di estrema attualità perché il presidente del senato è tornato proprio nelle ultime ore anche a rendersi protagonista di affermazioni riguardo il 25 aprile che francamente lasciano non solo perplessi ma sconcertati perché pensare che la nostra costituzione non abbia nulla a che fare con l'antifascismo davvero è un qualche cosa che lascia esterrefatti rispetto alla volontà di rileggere la nostra storia patria e poi sì poi anche il ministro lollo brigida con questa dichiarazione riguardo la sostituzione etnica davvero è andato oltre ogni possibile logica dal punto di vista della l'approccio alla realtà e anche della lettura di un fenomeno come quello della migrazione che è tutto dal mio punto di vista meno che qualche cosa che possa inserirsi all'interno di progetti o di cospirazioni contro il nostro paese all'insegna di tentativi di sostituzione etnica mi chiedi alberto se è un disegno quello che mette in atto l'attuale governo l'attuale maggioranza allora io credo che ci sia molto di abbenaggine di improvvisazione in queste dichiarazioni ma ci sia una strategia che magari non arriva puntualmente a decidere di fare questa affermazione piuttosto che l'altra fare questa uscita e in quale momento c'è una voglia di alzare il tiro una voglia di creare comunque delle esagerazioni parossistiche anche nel modo in cui si interpreta il proprio ruolo istituzionale per rendere accettabili anche poi delle correzioni o comunque altri tipi di affermazioni a forza di spararle grosse per dirla proprio in maniera brutale ci si abitua a tutto e nel momento in cui tu hai fatto abituare la gente allora puoi portare avanti tutta un'altra serie di elementi magari meno roboanti meno clamorosi che però modificano la percezione che l'opinione pubblica di determinati problemi determinate questioni piuttosto che determinate letture della nostra storia fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile che delle cariche istituzionali arrivassero a fare certe affermazioni poi a forza di sentirle proporre ci si abitua a tutto e questo vale per il linguaggio perché certi linguaggi nella politica e nelle istituzioni fino a qualche anno fa erano assolutamente privi di qualsiasi cittadinanza vale per la rilettura di alcuni episodi storici vale anche per l'atteggiamento riguardo alcune abitudini o anche più che abitudini alcuni punti fermi della nostra etica e della nostra morale a forza di spararle grosse insomma ci si abitua a cambiare il nostro modo di percepire la realtà e di rileggere la storia e poi per tornare alle frasi del ministro lollo brigida le esternazioni del presidente del senato la russa francamente credo che sia un detutto inaccettabile che in altri paesi avrebbero provocato anche le dimissioni io non sono tra coloro che in parlamento ritengono che si debba fare le barricate se ne deve andare eccetera eccetera il problema è esattamente quello che dicevo prima la forza di tollerare un certo modo di esprimersi di accettare determinate esternazioni con relative mezze scuse ci si abitua a tutto e anche il livello di rispetto istituzionale poi scende e continuerà sempre a scendere lasciatemi fare anche un'altra considerazione riguardo più che esternazioni e degli infortuni anche che ci sono stati in questi giorni e andiamo sull'altro presidente il presidente della camera lorenzo fontana che tra l'altro oggi sul corriere della sera rilascia un'intervista in cui si professa convinto antifascista dice che 25 aprile deve essere una festa di tutti e sottolinea in particolare che la resistenza è stata un fenomeno plurale cosa assolutamente vera rivendicando soprattutto il ruolo fondamentale dei cattolici all'interno della resistenza citando due cattolici che sono morti nel campo di fosso e dimenticandole tanti altri o d'altronde gli esempi possono essere tanti non bisogna fare una graduatoria tra chi merita di più e chi merita di meno quello che dice comunque oggi sul corriere della sera il presidente lorenzo fontana è indubbiamente vero cioè la resistenza è stato un fenomeno plurale quindi anche il 25 aprile a tutti gli effetti può e deve essere una data condivisa da tutti consentitemi però una battuta su quello che è accaduto nei giorni scorsi con a proposito di contributo dei cattolici alla nostra storia il presidente fontana che salutando una scuola intitolata all'ex presidente nazionale dell'azione cattolica nonché presidente vicepresidente del csm assassinato dalle br ovvero vittorio bachelet lo ha ne ha storpiato il nome quasi a dire che non l'avesse mai sentito ecco mi permetto di dire che se si deve guardare al contributo dei cattolici all'interno delle nostre istituzioni non ci si deve fermare a un pezzettino dello stesso perché credo che quello che è stato il sacrificio di vittorio bachelet sia a tutti gli effetti un modo importante con cui il mondo cattolico e esponenti del mondo cattolico hanno continuato a costruire il nostro paese e radicandosi fortemente all'interno di quella storia di libertà che è stata la resistenza di quella fondamento della nostra repubblica che è la costituzione di cui bachelet è stato un interprete fondamentale ecco dico al presidente della camera che se vuole davvero essere tra coloro che riconoscono la pluralità delle nostre istituzioni e il contributo dato da tutti ecco si informi un po meglio o un infortunio può capitare a tutti magari era sovrapensiero in realtà conosce benissimo bachelet e non ha assolutamente alcun buco nella storia del movimento cattolico però può capitare a tutti ribadisco un infortunio una distrazione o quant'altro avrei gradito che oggi sul Corriere della Sera da un lato l'intervistatore chiedesse ragione di questo infortunio dall'altro cogliesse l'occasione fontana per scusarsene e magari dimostrare che l'errore che ha compiuto è stato tutt'altro che secondario non lo ha fatto e questo secondo me è un altro indice della sensibilità di chi si proclama giustamente anche orgogliosamente cattolico come evidentemente vede mancare dei pezzettini anche della storia del movimento cattolico del nostro paese quindi alberto credo che non ci sia un disegno che mette in fila le cose da dire e quando dirle però c'è questa idea più si alzano i toni più si esagera più si abitua la gente a sopportare qualsiasi cosa in tanti campi e credo che questa sia la strategia vera di chi attualmente governa il nostro paese e interpreta in maniera un po' eccessiva anche cariche istituzionali che dovrebbero essere davvero garanzia per tutti passiamo a un'altra domanda Ciao Fabio e ciao a tutti gli ascoltatori da Perrotto Murante e volevo approfittarne visto che settimana scorsa hai disposto alla domanda sul talk show televisivi volevo approfittarne per chiederti visto che tu hai seguito anche la legge regionale del 25 gennaio 2018 numero 8 volevo chiederti una tua opinione sulla commissione di vigilanza RAI che è partita in questa settimana con 21 deputati e 21 senatori e se ci puoi raccontare per dirci tu la tua opinione sui parlamentari che sono stati incaricati di vigilare sul servizio pubblico della RAI e se ci vuoi raccontare anche tu che proposte ai di comunicare il servizio pubblico della televisione pubblica e suggerimenti anche per RAI 3 Lombardia. Ciao. Grazie Maurizio ti firmi con il cognome per Rotta Murante io ti chiamo per nome grazie per questa domanda una domanda complicata poi io non mi azzarderò a dare un giudizio sui singoli membri della commissione di vigilanza RAI sono 42 per cui figuratevi 21 come dicevi per la camera e 21 per il senato però qualcosina dirò anche su di loro prima però permettetemi di dire due parole sulla funzione della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio televisivi che più comunemente come dicevi Maurizio è nota come commissione di vigilanza RAI anzitutto come correttamente dicevi è una commissione parlamentare bicamerale la sua prima istituzione è già in un decreto del capo dello stato provvisorio del 1947 però di fatto è attiva per come la conosciamo adesso dal 1975 quando è stata istituita con legge una riforma di fatto della RAI stabilendo compiti e poteri precisi della commissione parlamentare che sono dedicati soprattutto al servizio pubblico radio televisivo ovvero quello della RAI e l'approvazione tra l'altro avvenne nel 75 come spesso accade nel nostro paese su impulso della corte costituzionale che aveva delineato alcuni elementi chiave per attribuire al parlamento i poteri per definire direttive e controllare anche il rispetto delle direttive date al soggetto incaricato dell'informazione pubblica e l'importanza della commissione di garanzia è legata al pluralismo dell'informazione e a evitare che il controllo del mezzo pubblico radio televisivo della RAI in questo caso sia semplicemente nelle mani del governo questo però non comporta il fatto che i partiti se ne stiano fuori dalla RAI lo dico in maniera brutale anzi la lottizzazione non è stata quasi ratificata dalla legge del 1975 e continua ad andare a passi spediti tra l'altro ogni volta che cambia la maggioranza cambiano anche lo vedete i direttori delle principali testate giornalistiche della RAI e cambia anche la modalità con cui attraverso il parlamento la maggioranza dà indicazioni magari non esplicite però de facto alla RAI la commissione in ogni caso dispone di un significativo potere di veto rispetto alla scelta del presidente del consiglio di amministrazione e questo viene eletto dal consiglio di amministrazione della RAI ma la nomina diviene effettiva solo dopo che la commissione ha espresso un parere favorevole con una maggioranza di almeno due terzi dei componenti quindi anche la minoranza deve dare un contributo altrimenti questo il presidente non viene confermato e tra l'altro ogni sei mesi prima dell'approvazione del bilancio il cda deve riferire alla commissione di vigilanza quella che è l'attività della RAI quindi questa commissione è in effetti una uno strumento che può di fatto dire la sua riguardo l'attività del servizio radio televisivo il problema che più che altro i partiti la utilizzano per riuscire a indirizzare e a garantirsi uno spazio all'interno della RAI stessa però insomma è uno strumento che va utilizzato può essere utilizzato a dovere e per questo è molto delicato il ruolo di coloro che ricoprono l'incarico di essere membri della commissione di vigilanza RAI per la camera ad esempio tra i 21 nomi ci sono dei dei nomi sicuramente significativi che partono per quanto riguarda ad esempio vado in ordine alfabetico c'è Maria Elena Boschi che tra l'altro è vicepresidente è un esponente di spicco di Italia Viva poi abbiamo Angelo Bonelli dei veri leader dei verdi quindi sicuramente uno con una grande esperienza abbiamo Stefano Candiani per la Lega che anche lui è un esponente politico di lungo corso Rita dalla chiesa di Forza Italia che anche esperienza diretta poi in chiave televisiva Maurizio Lupi di noi moderati anche lui politico di lungo corso o ancora Andrea Orsini di Forza Italia Vinicio Pelufo per il PD attuale segretario ancora segretario regionale del PD e già esponente della commissione di vigilanza RAI due legislature fa o ancora Nicola Zingaretti quindi nomi comunque molto molto significativi che sicuramente hanno tutte le competenze per dare un contributo significativo per il senato abbiamo Michela Biancofiore per noi moderati nome noto della politica abbiamo Anna Maria Furlan per il PD che è stata segretaria nazionale generale della CISL Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle è la presidente designata della commissione di vigilanza RAI o ancora abbiamo Maurizio Gasparri di Forza Italia Gasparri è stato ministro delle telecomunicazioni protagonista anche di una legge la legge Gasparri un po' troppo generosa con Berlusconi però non possiamo dire che non sia competente in materia Maria Stella Gelmini di azione Italia Viva anche lei con lunga esperienza e poi ci trae Antonio Niccita del Partito Democratico esperto in tematiche informatiche e di nuove tecnologie e insomma direi che ci sono dei nominativi di assoluto rilevo e credo Maurizio che possano dare il contributo necessario a far sì che la commissione di vigilanza RAI dia l'attenzione necessaria al servizio televisivo pubblico poi mi qualche linea sia per la RAI a livello nazionale sia per la sede regionale della RAI poi citavi una legge d'inizio 2018 sì è la legge che in regione abbiamo fatto per il sostegno all'attività radio televisiva regionale per il pluralismo legge che tra l'altro è stata bipartisan altrimenti non sarebbe mai passata visto che ero in minoranza avevamo seguita l'allora consigliere non ancora assessore decorato e il sottoscritto credo una legge buona che però non è mai stata finanziata adeguatamente spero che lo sia in questa legislatura anche se qualche dubbio ce l'ho per quanto riguarda i consigli allora sulla RAI a livello nazionale io credo che si debba puntare molto di più sulla valorizzazione dei diversi territori abbiamo 21 sedi regionali per la RAI e dovrebbero essere valorizzate molto di più non solo in programmi riservati all'interno di RAI 3 ad esempio il sabato mattina e la domenica mattina ma dando molto più spazio anche in altri programmi e poi valorizzare le sedi di produzione territoriali adesso è tutto concentrato o quasi a Roma abbiamo delle enormi competenze e potenzialità in giro per l'Italia Torino Napoli soprattutto Milano ecco direi alla RAI di essere un po più policentrica e soprattutto di valorizzare la grande possibilità che la nostra cultura il nostro territorio ci offre si era partiti molto bene secondo me con RAI 5 adesso è andata un po sbiadendo la funzione culturale di RAI 5 andrebbe recuperata e valorizzata al meglio e poi è un mio cruccio ma io se fossi direttore generale o presidente della RAI la prima cosa che direi è chi deve andare in pensione ci vada e il riferimento è a molti che ancora in là con l'età continuano a essere protagonisti in RAI e in particolare scusate ma io non riesco a capire perché Bruno Vespa debba avere ancora tutto questo ruolo io lo rispetto e lo ammiro anzi come professionista ma quando uno arriva a una certa età è bene che si faccia da parte possibile che non ci siano altri giornalisti interni alla RAI tra l'altro Vespa non è più interno che possano condurre adeguatamente i programmi e le fasce affidate a Vespa è vero che Vespa ha tanti contatti ha tante relazioni però c'è un tempo per tutto quindi quello è la prima cosa che farei caro Vespa grazie ti mettiamo anche una statua se vuoi di fianco al cavallo inviare Mazzini però basta fai altro dedicati al tuo vino con rispetto e con stima e ammirazione per la carriera che ha fatto Bruno Vespa che non ha uguali tra i giornalisti in Italia e poi puntare più sugli interni anche altri programmi francamente potrebbero essere molto più affidati agli interni piuttosto che andare a cercare esterni che servono perché portano qualità però secondo me bisogna anche essere capaci di puntare di più e guardare di più all'interno per quanto riguarda le sedi territoriali e la RAI di Milano in particolare beh saluto con grande favore finalmente la firma ufficiale messa per la costruzione del nuovo centro di produzione presso Fiera Milano City in via Gattamelata e spero che questo avvenga al più presto se ne parla da 15 anni perché la sede RAI di Milano pur bella pur in un prestigioso palazzo costruito anzi progettato da Giopunti è ormai tecnologicamente da rivedere e mi auguro che questo nuovo centro di produzione RAI di Milano dia un impulso alla produzione e alla della RAI di Milano perché ha tantissime competenze che però si stanno un po perdendo per strada perché da anni a Milano non si fa tutto quello che si potrebbe fare per quanto riguarda invece la parte giornalistica più attenzione ai territori ai diversi territori della regione che non sempre sono coperti dal punto di vista informativo a dovere e poi un po' più di pluralismo perché è pur vero che se si va a vedere i secondi dedicati a diverse forze politiche sul bilancino si arriva forse a un ipotetico equilibrio però non possiamo negare il fatto che ci sia una grande attenzione della TGR Lombardia per chi governa in Lombardia in questi anni e quindi mi piacerebbe vedere una TGR che sfrutti meglio le grandi professionalità giornalistiche che ha in sé no perché ci sono tantissimi colleghi molto molto bravi ma un po' più di pluralismo non guasterebbe fare il megafono della maggioranza regionale va bene fino a un certo punto anzi non va bene per nulla e lo dico con grande stima ribadisco dei colleghi che però sono un po' troppo vincolati da alcune indicazioni che surrettiziamente e neppure troppo surrettiziamente parlano sempre e comunque bene o stanno dalla parte di chi da troppi anni governa in Lombardia veniamo all'ultima domanda anche quest'oggi mi sto dilungando un po' e ve ne chiedo scusa. Digitalizziamo tutto continuiamo a sostenere le magnifiche sorti progressive di una tecnologia che divura poi parole dialoghi e relazioni lo dico senza essere contrario alla tecnologia anzi nella mia scuola innovato con centinaia di migliaia di euro di investimenti e nel mio comune sto innovando con milioni di euro di investimenti ma c'è un limite che dobbiamo cercare credo e trovare. Una riflessione più che una domanda quella che vi ho proposto la voce è quella di Paolo Pilotto sindaco di Monza prima vice preside chiamiamolo ancora così dell'istituto Zucchi di Monza e una riflessione sul digitale. Una riflessione un po' amara quella che Paolo faceva dicendo sì digitalizziamo tutto trasformiamo tutto in digitale però poi non è che perdiamo delle componenti essenziali e fondamentali del nostro vivere. Paolo ti do ragione anche io sono un fan un tifoso della digitalizzazione però ci deve essere anche lo spazio per capire cosa c'è dietro il digitale e far sì che il digitale sia uno strumento a nostro servizio. In questo senso mi pare molto opportuna la riflessione fatta da Mauro Magatti nel suo commento sul Corriere della Sera di venerdì scorso. Sentite, vedremo alcuni passaggi perché sono davvero molto molto efficaci. Per capire il futuro che si prospetta occorre osservare questi due sviluppi nella loro relazione, sviluppi della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale. Nel suo insieme la tecnologia digitale sta interferendo in maniera sempre più radicale su quello che i greci chiamano NUS, cioè sulla facoltà umana di pensare, facoltà che è individuale e collettiva. Gli antichi greci hanno riconosciuto e distinto le due componenti del NUS, intelletto e spirito. Due dimensioni che come hanno riconosciuto anche Jürgen Habermas e Josef Ratzinger nel corso della modernità si sono trasformate sconnettendosi l'una dall'altra. Cioè, e questo sono io, ho finito la citazione, l'intelletto e lo spirito, la capacità razionale, la capacità di interpretazione, se vogliamo anche emotiva e spirituale della realtà, nella modernità si sono separate in maniera molto molto forte. Quattorno a Magatti, l'intelletto identificandosi sempre più strettamente con la ragione strumentale prima e calcolatoria poi, e lo spirito evolvendo nella direzione della libera creatività dell'immaginario soggettivo. Cioè, tutta razionalità l'uno, che poi è diventata capacità e potenza di calcolo, e il digitale e le macchine continuano sempre più, pensate all'intelligenza artificiale, a puntare sulla potenza di calcolo. E l'altro, lo spirito, si è evoluto in una libera creatività dell'immaginario soggettivo, una soggettività che diventa spesso però individualismo anche all'interno della nostra realtà contemporanea. E manca, quindi viene a mancare quel confronto un po' collettivo, interpersonale, quel dialogo e quell'intelligenza appunto collettiva. E la rete con il digitale ha stressato e approfondito ulteriormente questa individualizzazione. Noi siamo tutti singoli, individui nei confronti delle potenzialità della rete. E continua Magatti, tale separazione diventa una divaricazione ancora più radicale. Il punto è che, mentre risultano esplose delle innovazioni tecnologiche, sopra ricordate le capacità di calcolo, elaborazione e circolazione dell'immaginario, vengono progressivamente delegati alla macchina. In questo modo, tali capacità vengono disincarnate e ordinate all'esigenza dell'organizzazione sociale. La ricomposizione tra intelletto e spirito da parte delle persone, delle libere associazioni umane, continua ovviamente a esprimersi. Ma diventa più fragile e, in definitiva, meno autonoma, cioè meno capaci di determinare i processi di conoscenza e decisione. Parole dense per dire che cosa, però? Che va benissimo la capacità, la potenza di calcolo per andare a essere più capaci di scomporre analiticamente la realtà e di astrarre anche, astrarsi dalla realtà. Però poi la realtà esiste ancora. Ecco, una caratteristica fondamentale, ad esempio, del cristianesimo è quella della concretezza. Oggi, invece, il pensiero è astratto, si toglie dalla realtà e diventa un qualche cosa di disincarnato. Ecco, allora credo che questa riconciliazione tra spirito e intelletto, tra capacità di calcolo e capacità di confrontarsi e di essere creativi anche, non solo da soli ma con gli altri. E poi la capacità, invece, di essere concreti, cioè di non trasformare tutto in sequenze 0-1, il digitale, ma di essere ancorati alla vita della pratica delle persone, seguire una delle massime che Papa Francesco continua a proporci, cioè la realtà è superiore all'idea. Ecco, siano concetti che dobbiamo tenere ben presenti. Paolo, quindi, credo che va benissimo, come dici tu, la digitalizzazione, però la tua preoccupazione relativamente alla necessità di rimanere concreti, rimanere ancorati alla vita delle persone, non trasformare la vita delle persone in qualcosa di numerico, di astratto, di digitale, sia fondamentale. E allora, la conclusione di Mauro Magatti, e torno a citarlo dall'articolo del Corriere di venerdì scorso, è, per rendere l'ambiente digitale amico della libertà e della democrazia, c'è infatti bisogno di investire sull'intelligenza umana, che significa lavorare per popolare tutto ciò che, stando in mezzo tra chat, GPT e metaverso, è in grado di mantenere viva e plurale la relazione tra intelletto e spirito, esattamente ciò che rischiamo di perdere, sapendo che se non lo faremo con la necessaria forza e tempestività, le grandi opportunità del digitale si trasformeranno in disastrosi fattori di distruzione. Che non vuol dire temere che poi l'intelligenza artificiale si trasforma in una sorta di grande fratello, di al, di odissea nello spazio 2001 o quant'altro del genere, ma significa perdere una delle caratteristiche fondamentali della nostra umanità, la creatività, la capacità di avere relazioni con gli altri che ci trasformano e la capacità di esprimere anche una forte intelligenza emotiva, cosa che al momento le macchine e la capacità di calcolo anche più grande del mondo non possono più esprimere. Se poi a questo ci aggiungiamo anche la dimensione religiosa intesa come apertura a un qualcosa d'altro e la dimensione spirituale, beh allora rendiamo ancora più tonda questa consapevolezza di non poterci limitare a calcolare tutto e a trasformare tutto in numero. Paolo forse mi sono allargato un po' troppo, prendendo spunto dalla tua considerazione, e forse sono stato un po' confuso o difficile da ascoltare, credo però che siano elementi su cui tutti noi dobbiamo continuare a ragionare. Bene, sono arrivato quasi come al solito alla mezz'ora, mi fermo ringraziandovi per l'attenzione e vi do appuntamento tra sette giorni. Buona domenica! Grazie a tutti!